Ha deciso di lasciare la sua borsa personale qui? Sì, sì. Come mai? Per avere più sicurezza, più libertà di stare in spiaggia. Ha saputo di furti? No, 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 no. È solo per comodità, per stare tutti insieme, vivere la spiaggia liberamente. Dopo le denunce nelle scorse settimane di piccoli furti avvenuti qui sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, il comune di Bari ha deciso di correre ai ripari, dando a disposizione dei tantissimi fruttori di questa striscia di sabbia, proprio questo chiosco dove sarà possibile avere un servizio di custodia di piccoli oggetti e borse, proprio a disposizione dei bagnanti. Oltre una sessantina sono i bagnanti che ogni giorno utilizzano questo nuovo servizio e non si tratta solo di turisti. Anche molti baresi ne approfittano proprio per stare tranquilli e godersi la tintarella senza la preoccupazione di dover controllare i propri effetti personali. I numeri crescono poi nel fine settimana quando il numero degli utenti aumenta. Tutte le attività di manutenzione e allestimento del presidio sono state eseguite dai lavoratori della Multiservizi, così come a loro è affidata la gestione del servizio, che sarà totalmente gratuito. Gli operatori, presenti sulla spiaggia tutti i giorni, dalle 8 alle 18, assicureranno la custodia dei beni anche nel rispetto di tutte le normative anti-Covid.